essendo io un nano no? che cosa? assicurata no? regola della mia che nel mio caso non è neanche una L qualunque Times New Roman 96 non so se lo spiego e tutto è in grassetto eh? e lo so uguale tutte le volte che lo tiro fuori uguale la stessa reazione guarda ve lo farei vedere ma in macchina non è abbastanza profondo mi farei vedere contro i vetri mi trovo circonciso sennò non l'avevo neanche fatto vedere no no davvero ma fai di una roba l'induro sembra torrone sai quello che ti rompi i denti è nocciolato è quel mio cazzo in reazione è nocciolato non so come è sai quel torrone è così è enorme io per masturbarmi devo salire in piedi sullo scapello sennò non ci arrivo non ci arrivo non ci arrivo non ci arrivo non ci arrivo